Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO, no, Road to Global con Tia BF, ciao Tia Hello Siamo a dire CSGO Competitive perché non leggevo più il nome di Tia perché Kylo Renna attualmente è Tia Io sono Kylo Renna Ed è Stellone perché questo è un altro account che ha e vuole portarlo almeno all'em, giusto? Esatto, esatto E poi siamo qui con Fabio, noto anche come Jeffy Fabrizio Fabrizio, ma io ti chiamo Fabio Fabio Perché sei di Roma e due bici stanno bene, quindi Fabio Vero Fabbro Fabrizio è brutto Fabrizio Fabrizio Sono tre b, due r, otto z, ammacello Faberizio 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 Quindi Le mappe che possiamo giocare oggi sono Cash, Overpass Inferno e Mirage Quindi giocheremo sicuramente Cash Perché tanto a noi capita sempre Cash Easy Entry Ci vediamo in game Ok signori, si parte Mi hanno ucciso Bastardi Siamo su Cash ovviamente perché Ovviamente È uscita Cash immediatamente, ma proprio immediatamente E stiamo avendo dei problemi col server Ago B Ago B Ago A Nice Let's go Dai Let's Penso che andrò tove non vanno loro Quindi una con me Eh il server fa merda, si si il server è una merda E me no Oddio No dai Come no Mattia No no Hey E sono entrati altri due MB Non so come li ho presi, ma sono entrati Due planting Behind the toolbox No, no Ci siete, ci siete Vai 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 il giro A parte che Vi devo mutare Ma nessuno di voi aveva una 5-7, no? No Due SP Ho fatto le mie due kill Sono contento Non so neanche come mi sono entrate Però la B250 ragazzi B250 gratis Soldi veri ragazzi Soldi veri Altro che faccio Mago della finanza Ovviamente ho fatto zero kill È meglio, è meglio Noi dobbiamo rancare Tu non sai quello smurfing Esatto Ma io voglio rancare Quello è il problema Io devo arrivare all'em Porco il cazzo E arriverai Passi una? Anche io Sì Yeah, ma Una maier I'm switching eh 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 Dai, eh che arrivo Sì, ma Ha lasciato bene uno Madonna Mid He fatto Bene, bene, cominciamo bene Vabbè io non ho fatto un cazzo Sto round va bene così A me più me lo tengo Sto provando con l'M4A4 Anch'io Visto che con l'M4 silenziato Sono un po' litigato No io più che altro mi trovo sempre in posizioni Dove devo coprire E devo sprayare molto di più di quanto vorrei Vuoi più colpi Esatto E poi in realtà l'M4A4 se impari Lo spray pattern dei primi 5 colpi Vabbè Ma cazzo qua Hanno preso gli AK They got AKs Two towards Tocsac AK contro MP non era esattamente la cosa migliore Non era via Oh, here open vent Flash on A Manca Jeffy Sti spray down Eh sì Solo così devo sparare Visto No Una 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 è morto in vent Sì è uscito troppo largo Attenzione Un rosu Da solo contro tutti Dovevo pensarci al round di AK Al terzo round Non ci ho pensato Ma gli avevi detto che lui era giallo? Eh certo Allora è scemo lui Va bene Diamo rinforzo Compra un kit Ovviamente Kevlar senza elmetto ragazzi Perché l'elmetto contro gli AK non serve a un cazzo Quindi No l'hai dincato È dincato È dincato Toxic Uno Uno è morto in mid Due morti Ok Beh due morti Abbiamo una gappa Uno in mid Un go in betto Siti Preso No ma ne è un UMP Ho però Per morire Per morire Per morire Questa aveva il mio UMP No ok Su Tiene da uno verso il mid Occhio No vè Dai uccidere un altro Così facciamo il miglior No Che sterzata Va bene va bene va bene Due pari Dai ce la facciamo Mocca a me Fabri Non ho Ho la fire No no Aspettiamo Vuoi che mi ha smacato? Negativo Ok Passi E Toxic Onam Laying down Flashbang Ok Lock 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 له E Dai come on Benz Giu 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 Quiggy 1 Nba 1 main 1 main 1 main Deploying flashbang 1 main 1 main 2 main 2 main Highway Highway 1 is minus 8 Merda No 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 no, buono, questo è buono Eh, si è andata Buona così Prova, presio NK Sì, posso dropparlo Ah, ho bisogno di dropp Ti droppo io Ho droppato a Tia io Ho droppato a lui Vuoi M4 o AK? Io prendo M4 Ok Dai, yeah Ciao, ciao Facciamo Aiutami tu Smoco il tuo main Smoque Renade out Arrivano B Sì Buona Roses ULALA The 4men The 4men The 4men Format Avevo il raspino Easy boost Easy boost for me Però vedi, in questo caso Più colpi della M4 a 4 Mi ho fatto fare la 4men, no? Esatto Ogni tanto mi laggia ancora il server a me One M4 Ok Un aim a team Eh, c'è il giallo You're in progettoria Man oил Ehi, ciao Vengo à I squelco per te Let's go Plane P dietro A tools Om Uno è uscita Due usciti Merda Mentre tiro proble w- W ali Tixi F*** this guy's been planted 1 car, 1 red 1 quad ha fregato la pppi a me ha fregato la pppi a me ha fregato la pppi a me o lei, che dirzi voglia chi sei noobish girl non lo sai 4 set no, 2 seco ha preso smoke e flash puoi dare una pistola? prendi 250 se puoi let's move out smoke andiamo a sinistra della smoke con una flash entriamo e ammazziamo tutti quanti soprattutto se c'è la pppi è un po' brutta sta smoke ecco bianco ci sei? si lascia ora dai blu mi ha aiutato neanche per un cazzo buona buona 1 verso B 2B 2B 1 toxic 1 near ladder 1 e toxic 1 ocean ladder occhio F buona site morto potrebbe essere in ventrum no ventrum siamo noi prime casse mi lasciano buona prendi pupi perfetto ecco 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 ai 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 si se non vuoi né ma dai si sennò la lava ahi te la grazie Anche se non lo sento la vp oggi Non sento il potere della vp oggi Ho pick with op, save headshot Quanto ha il pick? Sì, sto coperto Deploying flashbang Uno main Uno main, dove si finisce? Deploying flashbang Non ha aperto le vents Oh, da mid From mid Ditemelo che il mid non ha coperto C'è l'amico nostro giallo C'è la vp drop ct Ct in basso Vado a prendere Mid, mid, mid Non cercare l'engage Hai 9 di vita Valto Qualcato se lui usciva ad aiutarlo Sì ma blue non esce Blue non esce a prendere i trade Tipo io sono morto un quarto d'ora prima Nel round di 5-7 No, e lui è uscito dopo È un genio Un genio Questo è il grande problema di giocare con due sconosciuti Vabbè Qui che altro sì, io non gliel'ho comunicato che stavo fightando Però lo vedi a minimappa, cioè ci sei di fianco Lui era vent, un mio headshot No, provo ad accorgermi io se lasciano il mid Smocchi tu E non contare su di me per questa partita Uno è bastato ventrum Erano in eco Cioè erano in force Oh, non mi ha raccolto la tech 9 Era lì per terra avanti a me Ma niente Io non riesco a smettere di far girare il cazzo di butterfly Ho dei problemi serissimi Penso io non riesco invece a smettere di far girare le mie palle Ma sì, dai, che stiamo andando bene 7-3 Eh, voi stiamo andando bene L'importante è vincere Dove? Dove? Eh, è morto Vicky Sì, credo. Josh, dietro te. Oh! Where? Underground, già, yellow. Era yellow. Don't go on spot. Flashbang! Madonna. Su, serio. Io penso, io speravo plantasse. Ha fatto un flick. Compriamo, sì, compriamo. Compriamo, compriamo. Io ho una flash. Non andiamo a procurare aggressivi? No. Capri, non mi entra nulla. È inutile che io provi a prendermi qualcosa. Posso prendermi il cazzo. Passi. E vabbè, è entrato, ma ho sparato. There'll be a two B. Two in vent room. Main fuori morto. Uno mid. Due mid, in realtà, e due verso B. Questa è una di goi. Madonna, ma ha fatto un HS il tizio. Bomb drop on side main. One mid. Uno mid, morto. Perché c'è l'alleggiano così tanto? Uno vent room è entrato B. F***ing at one side. AWP going CT. La bomba? Main. Una WP era in B ed è andato verso... Andato verso CT, forse. Cioè, è lì? No, passi toxic. Main. Flushbang. Vabbè, dei passi toxic lui. Uno mid. Highway. Good. Un altro... Dina d'arena. Troppo impietuoso. Ho preso quella pick, la bomba lì dove in Asponder. Dai, dai. Quindi stavo cercando cover. Su... Main, però... Sul serio? Sì? Se lo fanno loro. Let's get this done. Hahahaha. Eh? Fire in the hole. Mid. One coming. Taps main. Bianco. Toxic. Rip, posso dirlo. Uno mid. Eh, una M. Prende io. Uno main. Uno è Toxic Short ancora non lo vedo Abbiamo aperto le vents Buona Uno arriva da Toxic Dove? Serio? Mid Per? Cioè la mid loro Sobbi forse va Toxic No è A Passi qua Lui ha un'arma Rosu So No è colpa di Mrosu Poverino Vabbè Se non schiaffo in faccia Compriamo? No Vedo già degli M4 Quindi direi sì Dai e dai e Non facciamogliene vincere di più Ciao pro Un'altra Un'altra Mon'altra Un'altra Un'altra Ah, hanno chiesto la pausa. Hanno un bot? No. No. Un main. Uno main. Fortissimo lui. Chi ha? Dove? One main, one... Giallo. Dove? Madonna. 82 in uno. Gli ho fatto 82 in uno. One low HP. The other one full HP. Ce la può fare. Dai. Cioè uno sta a 12. E l'altro... Sta a... A 40. Ok. Low HP morto. Eccolo. Vedi che ci ha fatta. Vedi che ci ha fatta. Good job. Sì. Pa 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 pah pah pah. Aiuto il frangide. Promesso. Stangit in. Sì. Sì. Sono in time out i terroristi. Sì. E io mo' che cazzo compro? Lulz Deagle, Kevlar e Utilities Preferisco Dai si Piuttosto che soltanto Fa mass e Utilities Si tanto al massimo Se muore uno di noi prendi l'arma Poi comunque con la Deagle Se possono fare degli shot Se va bene C'è qualcosa che non va nel mio mouse E' troppo lento Magari hai toccato il coso per il DPS Oh no E' Dio che mi tocca troppo le palle Dai che si parte Ultimo round a CT Su, vinciamolo, facciamo 9-6 Allora con la Deagle vogliamo tenere angoli statici Quindi vado headshot e rimando Oh no, guarda io lo picco Vai 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 C'era un altro eh? Dai ma Come non è preso? Flash off Se l'ho preso Se ne è andato a me Bella Allora era preso Uno a B Cinque contro uno Quest'altro Le seghe Guarda Allora dobbiamo fare sette round a terra Che non è facile Non è per niente facile se sette round a terra Vincere le pistole innanzitutto Esatto Ah, guarda la spilla di Drain, ragazzone Rush A? Or not? Yeah, sure Yep Jeffrey, mi fai fare il raid boss? O? Io vi Digi quit? No, stavo dicendo mi fai fare il raid boss Tech N9 Armor Invece no, vai avanti tu, vai avanti tu Se vuoi a troppo No, no, muoviti Corri, corri Entra Bianco Minchia il timing Due, due in Uno sul site Due invece erano giallo Un altro morto Uno alto Uno sopra Planto Io planto Sì, sì, planta, planta Tranquillo Sto a sette, eh Ct è pulita fino a B Main One main, last main, last main Coming quad Perfetto Ok Prendiamo mp7 Vada, vada Vada Filini, vada C'è un'altra bomba, eh Solo spuntare in mid White box Morto Un altro in site Uno mid Connector Bona Connector è morto Uno è site Due site Un quad Ok Fight One mid Madonna Madonna mia Ho tirato una sventagliata Abbiamo fatto così tanta cacera anche se no Buono, non ho idea A caso Ha funzionato Adesso sono in eco Totale Io vengo di deck 9 E vado in B Provo a vedere se riesco a fare qualcosa in via Flash, uno vicino Adesso Parole famose Entrato in vent È morto Esco prima io Dietro Taventa Taventa dietro Morto Headshot Morto Questa è morto La cavalleria Closcio alto Da dietro Buono La cappa di dia L'ho già preso La cappa di dia Dove sei? Niente Torniamo verso B? Sì Volentieri Attenzione Flash io Aspetta Ah, gli appiang Eh, ciò che dovrà succedere Uno Eh, dai L'ho iltato 26 in uno Hanno visto la bomba Uno c'è Porto tiro Alto morto Bravo Alto morto Bravo Tonsito Anche ho prima i gas Eccolo lì Prima i gas Infatti One car Car morto Perfetto Meglio dei così No, eh Perché mi decidi Deve bloccare il mouse Annaggia Una miseriaccia Non vorrei morire No, perché? Non morire Da dietro è Vence Vence Madonna che culo L'ultimo colpo Fabrizio Dica Niente Blu Can you drop me O Please Io ce l'ho già La WP Sì, ma non riesco a giocare Con la cap Can you drop? Thank you So much Bravo Dio, cambia Se non riesce Switch Non vado a piccare male B I take middle Don't flash Flash Middle please Smart one in B Don't talk White box White box One in B Don't talk White box Ok, prendo la bomba Ok Un car, 4 HP, in 1 site Be clear Uno è in B Vai andate, andate, andate easy Timing È tranquo, tranquo Tanto già hai tutto il tempo del mondo Molto Buono Buono Non volevo perdere la VP quindi me ne sono rimasto nascosto Tranquillo Beata, beata Vado in mid Non ho capito se avevano Fatto un force buy Perchè una aveva la T-gole e basta Ehm Cosa adesso comprano? Potrebbero eh Vieni a piccare zio Bianco Occhio, hanno tirato smoke, hanno sbiancato Minchia, la bomba è mollata proprio lì Headshot Muore Headshot ancora Hanno aperto i vents, io adina Un headshot Un headshot Vale UnIGHT M sj Ghinaki C'era Un WP non ti so dire questo 63 in uno una ct sicuro 1-up per la lupi 8 ct grande mrosu è grande qui buono bel flick dai e dai e andiamo a vincerla facile nemmeno in leggera ho fatto un score del genere io nemmeno in leggera ragazzi l'importante è vincere l'importante è vincere non partecipare si ma siamo fortunati siamo stati fortunati che ne abbiamo trovati due con le mani bianco hai due persone capaci che non riesci a fare tanti kill quante ne fai normalmente no non è un fatto di riuscire è un fatto di sfiga timing bianco 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 mi ha perso vent porco ehi passato verso scatola è passato? si si era una fire no 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 chi è che mi ha fermato? taci vostro andiamoci sul sito sul sito noi siamo qua a stare con quattro avp mid sito 1 uno è con vent uno è con vent vent lol ti vedi quello? la madonna la bomba è toxic la ultima è vent 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 si è entrato in vent oh come on oh yeah ee droppiamo droppiamo cosa droppiamo cosa dobbiamo dovrei avere il drop vai grazie che bello ma contento però le tue beretta non sono mica male se mi piace non sa il fucile a canne mozza e ombra dei bambu scusate non lo userai mai e scherziamo e vabbè ci assicuro ragazzi signori quindi questo era un road to global con Tia e Fabrizio meno mai come sempre questo no hate ciao a tutti ciao ragazzi ricordatevi questo non è il vero Tia comunque no questo è lo smurf no no per lo score è quello che gioca con i più scarsi e fa cagare mentre quando gioca con quelli forti è bravo non si capisce OH WANNA WAIT WANNA WAIT WANNA WAIT gioco ai videogame sta quando avevo 3 anni adesso sono il re del let's play WANNA WAIT WANNA WAIT Grazie.